Macchina che accelera, per il comando Ralph Malfe-Q e allargo Rialba-RL. Ralph Malfe-Q in vantaggio, allargo Rialba-RL, terzo lungo la corda Renoir Dani, quarta all'esterno Rumba-Jet e poi Roger Juore-SM. E' passata Rialba-RL, dopo il lancio in 3-16, Rialba-RL avanti a Ralph Malfe-Q, poi Renoir Dani e più allargo Rumba-Jet, si esce dalla piegata con Rialba-RL in battistrada, davanti a Ralph Malfe-Q, così il quarto iniziale in 29-1. Credisce Renoir Dani che si profila sulla leader per scavalcarla dopo mezzo giro. Nuovo leader dunque Renoir Dani, il 600 passato in 43-7, Renoir Dani avanti a Rialba-RL, in terza posizione Ralph Malfe-Q, poi Rumba-Jet, quindi Roger Juore-SM e poi Rossi-Dream. Completata la piegata, metà corsa, 33 il secondo parziale, 14-3 la media per i primi 8, completati in 59-4. All'avanguardia Renoir Dani, in seconda posizione Rialba-RL, Pippo Cubelini che sposta in fuori Rumba-Jet, il giro completato in 14-8. Provedisce Rumba-Jet, prova a prendere la scia Roger Juore-SM, dall'arretroguardia intanto prova a migliorare anche Royal Rock. All'avanguardia Renoir Dani, in 29-6 la terza frazione, Renoir Dani, Rialba-RL, Rumba-Jet a largo, completamento della piegata, ingresso in dirittura. Renoir Dani su Rialba-RL, a centropista c'è lo scatto di Roger Juore-SM, poi in recupero a largo anche Rossi-Dream. Renoir Dani allunga, nel finale Renoir Dani su Rumba-Jet e poi per la terza in lotta Rialba-RL e Roger Juore-SM. 29-3 il quarto conclusivo, 1-58-3, il tempo totale, media al chilometro, 1-13-9, si impone Renoir Dani. Portacolori della scuderia, Flaviana, per il training e la guida di Marco Smorgon, a media di 1-13-9, in seconda posizione Rumba-Jet, in terza Rialba-RL, davanti a Roger Juore-SM.